andrà tutto bene puntata numero 152 oggi è martedì 28 aprile 2020 sono le 15 e 48 giochino lorati e ragneri razzate buon pomeriggio ragneri buon pomeriggio a te grazie a tutti coloro che ci ascoltano ragneri dove si trova il tuo studio agile il mio studio agile nel senso io sono sono a piazza ungheria e ho lo studio lì da legale la società nella mia società di confluenza e poi gli studi agili stiamo facendo tra casa e studio perché con avere un computer ci consente di muoverci insomma quindi in questo momento mi trovo nella mia abitazione ma ho studio per fortuna vicino casa quindi faccio un po casa e bottega uno studio di cosa esattamente che si occupa di cosa io faccio normativa antiriciclaggio e compliance societaria e per gli intermediari finanziari quindi le famose 231 al quadrato la 231 07 antiriciclaggio la 231 0 1 la responsabilità penale d'impresa e come tu sai mi occupo da tempo di diritto societario e bancario quindi questa è la principale il focus è questo tu sei commercialista o avvocato entrambi ho studiato troppo perciò sono ridotto così sono avvocato e anche dottore commercialista insegno da un bel po di anni legislazione antiriciclaggio attualmente la mia cattedra è a bologna all'università di bologna la sede di fornì insegno legislazione antiriciclaggio e da quest'anno anche sociologia dei mercati illegali a proposito di tutto sociologia e politica dei mercati illegali quindi mi sono dedicato alla criminalità ma non attiva passia a studiarlo la criminalità sai da tantissimi anni ormai faccio i 30 anni che mi occupo di criminalità organizzata e riciclaggio purtroppo hai partecipato scusami non riciclo ancora in prima persona hai partecipato non al riciclaggio ma alla stesura della legge si era la commissione ministeriale del 2007 abbiamo scritto diciamo il testo della legge 231 07 che poi ovviamente andato in parlamento è stata approvata dal parlamento ma sì la commissione presieduta dal mio compianto maestro Pierluigi Vigna con cui ho lavorato tanto e dal quale ho appreso tantissimo sì anche ai successivi adeguamenti ma insomma a quanto pare adeguarla non è mai troppo poi questo possiamo pure dirlo sei anche un bravissimo musicista molto più bravo che avvocato e commercialista no innanzitutto autore per aracne quindi sai uno autore per aracne conflitto di interessi pieno non scherzo sì l'unico suono la batteria quindi è l'unico hobby che mi sono riuscito a conservare non faccio sport non faccio nulla per cui adesso se ci fanno riprendere poi a fare le prove prima o poi a chiuderci in sala e suonare avevamo dei concerti che sono saltati non era una tournée ma c'era qualche piccolo giro da fare purtroppo saltato quindi non sto suonando e la cosa è la cosa mi dispiace molto devo dire la verità io ho assistito purtroppo a un solo tuo concerto e devo dire che sei bravissimo ma tutto tutto il gruppo siete fantastici davvero fantastici vabbè perché mi ricordo che ti offri la cena io perciò lo stai dicendo vero verissimo infatti io non mi riferivo all'esibizione ma alla cena certo esatto al suo alle porchette sui gatti ridiamoci su il momento è questo ma insomma ne usciremo ne usciremo assolutamente ragneri nuova economia criminale in questa emergenza sanitaria sì è il nuovo virus così ebbè dal virus da questo virus le mafie stanno mostrando già di guadagnare tanto io mi permetto di dire che gli allarmi sono usciti già tanti di autorevoli i miei maestri eccetera ma l'ho lanciato ormai due mesi fa in una mia intervista dissi che bisognava presto muoversi per prevenire l'infiltrazione delle mafie nel quello che ho chiamato settore covid perché il covid svilupperà un mercato ufficiale e uno non ufficiale quello ufficiale è ovviamente degli apparecchi elettromedicali dell'assistenza e gli appalti per per comprarle mascherine eccetera eccetera quindi tutto ciò che ci servirà di prima necessità è ovvio che dovrà o far creare nuove imprese quindi creare un nuovo mercato oppure andare sulle imprese che già sono presenti poi ovviamente in questo periodo serviranno soldi e il denaro a buon mercato lo possono dare solo le mafie non vuole una punta di polemica tu mi conosci bene è chiaro che è giusto fare i finanziamenti arriveranno finanziamenti uè il nostro governo ha stanziato fondi per carità però ci sono delle pastoglie per ottenere i fondi come peraltro giusto che sia perché una banca deve fare le sue veliche eccetera eccetera perché la mafia non segue dobbiamo stare molto attenti perché la mafia presta denaro senza formalità e lo presta a tutti la mafia sembra che regali denaro in questo periodo ci sono molte persone che hanno bisogno di denaro e moltissime persone stanno andando a chiederlo al ai criminali perché il welfare che riesce a garantire la criminalità organizzata lo stato non riesce a garantirlo ma non è un messaggio pessimistico perché noi in italia la lotta alla mafia nel nostro paese siamo i primi al mondo però è l'economia di questo periodo è un'economia che può diventare molto più criminale di quella ufficiale questi soldi la mafia le mafie li prestano con tassi di interesse piuttosto buoni oppure parliamo di tassi usurai veri e propri i fenomeni sono due guarda allora il primo è arrivo nell'azienda in difficoltà entro come socio mi porto denaro fresco ed entro come socio ci faccio entrare una persona insospettabile mi tengo il controllo sull'azienda e poi un giorno se la gente dell'azienda va male o guarda caso insomma la compro tutta io perché sono un imprenditore che si può permettere questi denari lo faccio perché sono sempre operazioni ufficiali e legali fatte con gli atti costitutivi e registrate le camere di commercio c'è un secondo filone che quello del prestito di vicinato e quindi dell'usura di vicinato di territorio e alla persona che è bisognosa alla quale tu all'inizio non chiedi nemmeno gli interessi dici guarda me li ridai x anni e però quello che mi ridai magari poi vai a scoprire che il 100% in più gli devi ridare il doppio e quindi qui però consentimi di ricordare che la confusione che si fa molto sul riciclaggio alle mafie fare usura e riciclaggio serve non per trarre profitti ma serve per espandersi e controllare i territori per cui quando io faccio l'usuraio gestisco l'usura in un quartiere o in una città io controllo la città non fa niente se presto posso prestare pure a zero a zero interessi non fa niente il discorso è che ho una persona sotto il mio controllo o una zona sotto il mio controllo riciclaggio vado a comprarmi il 50 per cento di una società e lo pago due volte di più non fa niente perché tutto denaro che deve essere ripulito ufficialmente mentre viene a reati quindi è denaro sporco come diciamo nel gergo che deve essere ripulito non importa a quale costo quindi io mi compro entro in un'impresa a difficoltà in difficoltà a milano come a roma come a palermo come a genova ho messo quattro punti cardinali genova palermo eccetera mi sono insediato in quella città e da lì mi allargerò e conquisto il territorio la mafia ha bisogno di potere di territorio i denari ce l'ha quindi non ha bisogno di guadagnare dalle operazioni finanziarie che fa necessariamente guadagnare ovviamente ci guadagna senza dire delle borse mondiali e dei movimenti che staranno già avvenendo di denaro sporco nel mercato ufficiale mi interrompo ogni tanto perché se no tu non mi interrompi dimmi che cosa hai piacere di sapere sì se gli usurai come li hai definiti tu di quartiere sono dei veri e propri affiliati a queste grandi organizzazioni o come dire sono dei piccoli imprenditori dei piccoli imprenditori dell'usura lavorano in proprio l'usura è oramai reticolare quindi parte da diciamo da una famiglia da un ordine di scuderia essi adesso è partito l'ordine perché si sa che ci sarà gente che ha bisogno di denaro quindi l'ordine parte dalla cosca piuttosto che dalla famiglia d'indrangheta e arriva nelle varie sedi dove ci sta gente che sa come raggiungere bisognose questo dico sempre guarda che lo stato non lo sa lo stato si deve muovere prima perché altrimenti loro lo sanno come arrivare tendenzialmente è reticolare poi c'è anche l'usuraio estemporaneo quello che dice ma guarda un po c'ho questo che ha bisogno di soldi già che ci sta mi faccio un guadagno e quindi il delinquente comune però l'usura è oramai raffinata non è più da delinquenti comuni giochino siamo lì è un po passata quell'idea certo qualche usuraio di vicinato qualche vicino usuraio c'è ancora insomma per carità ma l'affiliazione alla mafia direi che per il 90 per cento è un'usura organizzata mafia l'hai declinata anche al plurale mafie perché 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 beh corretto declinarle al plurale le mafie perché le mafie sono sono tre le famiglie di mafia grosse c'è i gruppi quando si parla di mafia in genere ci si riferisce a cosa nostra siciliana che è una delle mafie quindi le mafie sarebbe ma lo dicono i miei maestri quindi le mafie sarebbe assommare le tre organizzazioni fondamentali che sono come sapete cosa nostra non si chiama ma cosa nostra l'andrangheta e la camorra e sono le tre principali la sacra corona unita e residuale insomma non possiamo manco definirla una quarta mafia quindi è più corretto parlare di mafie certamente le mafie il fatturato delle mafie è più corretto nel gergo noi parliamo di mafia e la gente non tecnica è giusto che dica la mafia ma lo diciamo anche noi nel momento in cui vogliamo sintetizzare il fenomeno c'è un fenomeno mafioso comportamenti mafiosi che si devono alle mafie ecco diciamo che le mafie sono una categoria eterogenea che poi viene ridotta diciamo così a un concetto unico per studiarle meglio per semplificare però purtroppo sono sono molto più di quello che pensiamo molto più diffuse di quello che pensiamo e sono in alleazza fra di loro sono alleate perciò parliamo delle mafie la nostra struttura organizzativa statale riuscirà a contrastarle anche in questo periodo di emergenza ma guarda se funziona la prevenzione sì il contrasto è sempre più difficile della prevenzione però noi abbiamo mostrato di saperlo fare il rischio zero non esiste e prendere tutti i cattivi non ci riuscirà mai nessuno ci sarà sempre qualche cattivo che sfuggirà però quindi non il contrasto totalitario ma certamente un contrasto avanzato noi lo sappiamo fare lo possiamo fare perché abbiamo gli strumenti legislativi codici antimafia e altre norme sono abbastanza adeguate abbiamo una direzione nazionale antimafia dei magistrati antimafia e fammeli ricordare perché poi appunto sono quelli che vengono criticati ma sono tu oppure ne conosci tanti e poi le forze di polizia di parte i nostri specializzati e l'intelligence che certamente hanno gli strumenti che sanno come fare se ti dovessi dire che noi vinciamo la battaglia con le mafie e lo diciamo come per il coronavirus ovviamente siamo ottimisti batteremo entrambi però è chiaro che quello delle mafie forse prevederà insomma qualche tempo più lungo per essere battuto contrastato sì certamente da noi hanno la vita difficile vanno all'estero stanno facendo più affari all'estero che in italia perché la nostra prevenzione ancora funziona c'è all'estero per esempio in germania anche che per molto tempo l'ha disconosciuta come sai su questo ho avuto una nota ho dato un'intervista polemica dove ho detto che ai signori tedeschi che avevano affermato che in italia aspettavamo i finanziamenti comunitari perché li aspettavano le mafie mi sono permesso di ricordare che la germania è una delle nazioni europee più penetrate dall'andrangheta e forse c'è più andrangheta in germania che in italia e loro non hanno un codice antimafia non hanno il reato di associazione mafiosa non hanno la magistratura indipendente dal potere politico non hanno l'azione penale obbligatoria se non in alcuni casi allora di che cosa stiamo parlando tu puoi dire una cosa del genere ma questo lo direi a qualsiasi governante si affacciasse a dire una stupidaggine del genere quando hai le tue blindature sei un sistema totalmente vulnerabile quello tedesco alle infiltrazioni mafiose quasi come come il nostro cioè non c'è nulla di più nulla di meno nessuno può dare le azioni all'altro noi forse le possiamo dare perché noi sulla prevenzione e sulla contrasto alle mafie abbiamo i risultati loro no e i nostri i nostri magistrati antimafia non ultimo l'amico nicola gratteri li aveva avvertiti già da due che li aveva avvertiti che c'erano delle infiltrazioni i loro apparati se ne sono assolutamente disinteressati per non dire un'altra cosa e quindi si sono trovati adesso e si trovano ad avere controllo di territorio da parte di della criminalità organizzata e di molte attività economiche più di quelle che pensiamo i nostri investigatori conoscono i nomi e cognomi di chi sta al vertice di queste organizzazioni lo sanno oppure no secondo te va bene saperli ovviamente chiaro certamente conoscono i nomi e la struttura noi abbiamo ricordo arrestato tutti quanti latitanti di mafia oramai pericolosi latitanti se ne resta solo il famigerato matteo messina denaro che credo prenderanno presto ma ma i grossi li hanno presi le famiglie di mafia chiamiamole così sono tutte quasi tutte censite oramai c'è una mappa di qualche centinaio di cosche e di famiglie di ragada che sono diffuse sul territorio i nostri investigatori conoscono i capi ne conoscono la struttura ovviamente poi ci vogliono le prove le attività di intelligence e soveglianza per andare ad arrestarli certamente sì però la mappa è piuttosto chiara oramai questo mi sento di dirlo e di tranquillizzare come sai ho fatto anche due commissioni parlamentari antimafia come consulente in questa in questa commissione sono metà e metà per cui insomma ha avuto modo di studiare non sono bravo io ma mi hanno insegnato tante cose i miei maestri e comunque gli studi che abbiamo fatto e che si fanno su questa realtà che è pure bella da studiare dico un'eresia poi sai bene che un nostro volume un volume è scritto per la tua casa editrice mio coordinato ha spiegato questi fenomeni eppure è bello da studiare persino le mafie non sono belle però è una è uno che consiglio ai giovani e lo dico ai miei giovani studenti agli studenti miei io do molte tesi su questo su questo argomento si affascinano molto perché è un bell'argomento da studiare senz'altro ragneri come si spiega che ai vertici di queste organizzazioni ci siano persone con una bassa cultura con 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 scarsi titoli di studio e che poi vivano rintanati in in bunker come si spiega si spiega perché le tradizioni delle organizzazioni mafiosi sono antiche le mafie nascono sono qualcosa di ancestrale cioè hanno i loro i loro siccome iniziano le mafie iniziano con le campagne iniziano nei 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 terreni iniziano nelle zone sperdute per occultarsi non serviva che ci fosse un genio ma serviva uno solamente spietato e capace di essere il padre padrone e di dare un orientamento questo oggi lo vediamo un po meno attenzione perché si i rampolli come sappiamo e gli eredi sono persone white collar quindi abbiamo delle persone che si presentano molto meglio però è chiaro ricordiamo che rina era un analfabeta e provenzano pure ma quindi per carità abbiamo quell'immagine però oggi non dobbiamo farci tradire dal fatto che e tenendo presente che rina e provenzano da ignoranti hanno gestito patrimoni di centinaia di miliardi quindi insomma è chiaro che i titoli di studio come sappiamo bene non danno la patente di genialità alle persone si spiega ancora perché il reticolo e di padre in figlio c'è una successione che quindi se io mi sono tenuto mio figlio come mio secondo non l'ho fatto studiare perché è stata presa a me in campagna doveva fare quindi io mi ritrovo nella mia nel mio albero genealogico tendo a ritrovarmi qualcuno che prende il posto mio che sia che sia non non adeguatamente formato che non è detto che abbia studiato all'università i tecnici quelli che vogliono che siano i mafiosi di domani che non serve più che sparino che intimidiscano nessuno ma che siano i tecnici delle mafie certamente li fanno formare iniziano dai loro figli e dai loro nipoti certamente se ritengono pronti per prendere le redini in mano quindi è un fatto storico una battuta velocissima perché siamo in chiusura la ricetta per non dover subire un'ulteriore emergenza cioè oltre all'emergenza sanitaria emergenza economica un'emergenza dovuta alle mafie lo stato innanzitutto non deve perdere il controllo del territorio quindi i posti di blocco anti covid danno molto fastidio alle mafie perché servono a tenere che il territorio controllato lo spacciatore si spaventa di più perché sa che la pattuglia passa quindi controllo del territorio sempre il controllo dei conti correnti e delle operazioni finanziarie la mafia si attacca solamente quasi esclusivamente con i controlli finanziari e l'agenzia delle entrate controllasse davvero i veri criminali ma i veri criminali non sono evasori perché la mafia non evade ricordiamoci la mafia i conti tracciati per cui sono gli insospettabili che fanno movimentazioni tracciate abbiamo la legislazione antiriclaggio che da questo punto di vista è assai avanzata continuiamo a fare quello che stiamo facendo intelligence territorio intelligence finanziaria grazie ragneri grazie di cuore e spero che tornerai presto ad andrà tutto bene buon pomeriggio ragneri grazie a voi tutti grazie buon pomeriggio